benvenute e benvenuti sono andrea del circolo dei narratori di bergamo e il sabato pomeriggio condivido letture di testi letterari con chi vuole ascoltarle la settimana scorsa leggendo dante abbiamo incontrato come personaggio virgilio l'autore delle neide io non vi nascondo che non sono un grande amante di virgilio come autore lo so chi di voi ha fatto studi classici ora mi disprezzerà ma che ci posso fare tutta questa delicatezza nel verso e tutta questa finezza psicologica che mi hanno detto fin da ragazzino io il virgilio non ce la trovo però però sapete come mi sono riconciliato con virgilio è stato merito di un romanzo anche in questo caso virgilio era presente come personaggio la protagonista del romanzo è un personaggio minore delle neide che si chiama la vinia e anche il romanzo si chiama la vinia è un libro che ho molto amato che ho anche molto regalato di un'autrice che tra le mie più care autrice principalmente di fantascienza in parte anche di fantasy e che poi da ultimo ha scritto questo romanzo che è difficile collocare in un genere preciso un po fantastico diciamo la storia si basa su un fatto vero cioè forse leggendario ma che anche altre fonti riportano virgilio considerava il proprio poema ancora da perfezionare e poco prima di morire perché lui è morto giovane di malattia durante un viaggio aveva chiesto ai propri amici di distruggere il manoscritto perché lui non ci si riconosceva era ancora da sistemare e come sappiamo non lo hanno distrutto sta a voi decidere se esserne contenti o no comunque l'idea del romanzo che oggi vediamo è che nel delirio delle febbri virgilio abbia avuto dagli dèi il privilegio di incontrare uno dei personaggi della sua opera e si aspettava di incontrare il suo eroe nea oppure uno dei personaggi famosi e invece gli fanno incontrare questo personaggio minore e lui è un po deluso ma poi a poco a poco si conoscono e lui appunto trova che il poema è incompiuto nel senso che non ha sviluppato abbastanza il personaggio di lei e lei viene a sapere da lui molte cose sul proprio futuro perché loro si incontrano quando lei è una ragazzina la storia però come vi dicevo non è la storia di virgilio è la storia di lei e queste cose che vi ho raccontato le veniamo a capire dai ricordi di lei perché la storia comincia anni dopo era il maggio del mio diciannovesimo anno di vita e con tita e maruna mi recai alla foce del fiume per prendere il sale dedicato alla sacra mensa mio padre predispose che ci accompagnassero un vecchio servo e un giovanetto con un asino le saline non distano che poche miglia dalla città risalendo la costa ma decidemmo di passare fuori anche la notte e caricammo il povero asino di vivande impiegammo tutto il giorno per arrivare alla foce del fiume e ci accompagnammo e ci accampammo su una duna erbosa che si affacciava sul mare e sulle sponde del fiume cenammo intorno al fuoco narrando storie e intonando canti mentre il sole tramontava nel mare e il cielo primaverile si colorava di un blu sempre più intenso ci addormentammo accarezzati dalla brezza marina mi svegliai alle prime luci dell'alba gli altri erano ancora profondamente addormentati gli uccelli salutavano in coro il giorno che nasceva mi alzai e andai alla foce del fiume presi dell'acqua ma prima di bere ne offri qualche goccia al padre tevere pronunciandone il nome più noto e quelli antichi e segreti albula e rumon poi bevi con piacere l'acqua dal sapore lievemente salato il cielo si era fatto più luminoso ora e potei scorgere le lunghe onde compatte là dove la corrente incontrava la marea in arrivo al di là di quella linea sul mare cupo vidi una flotta di grandi navi nere provenire da sud e avvicinarsi alla foce sul fianco di ogni nave una lunga fila di remi si sollevava e poi ricadeva in acqua come un batter d'ali al crepuscolo una dopo l'altra le navi fendevano le onde sollevandosi e affondando una dopo l'altra si dirigevano verso di noi i tre rostri lunghi e arcuati erano di bronzo mi arcobacciai in arrivo al fiume nel fango salmastro la prima nave mi superò calando su di me come un velo scuro avanzando regolarmente il ritmo pesante e sordo sull'acqua i volti dei rematori erano in ombra ma contro il cielo si stagliava la figura di un uomo in piedi a poppa che guardava avanti il suo volto è severo eppure schietto guarda davanti a sé nell'oscurità e prega io so chi è quando anche l'ultima nave mi superò con quel batter di remi faticoso e sordo e scomparve nella foresta che cresce fitta su entrambe le sponde del fiume il canto degli uccelli riempiva l'aria e il cielo splendeva luminoso sopra le colline a oriente tornai al nostro accampamento dormivano tutti le navi erano scivolate via mentre erano ancora immersi del sonno non dissi nulla di ciò che avevo visto scendemmo alle saline e raccogliamo il fango grigio e viscido in quantità sufficiente per ricavare sale per tutto l'anno lo caricammo in ceste sull'asino e prendemmo la via del ritorno non permisi che indugiassero si lamentarono e rallentarono un po' ma molto prima di mezzogiorno eravamo già a casa andai dal re padre! una grande flotta di navi da guerra ha risalito il fiume all'alba gli dissi mi guardò il suo viso era triste così presto furono le sue uniche parole una delle cose che ho amato di questo romanzo in qualità di insegnante di storia è proprio questa quotidianità della vita delle popolazioni italiche preistoriche la figlia del re va con le ceste a raccogliere il sale perché il sale è sacro e si vende agli altri popoli e c'è tutta una sacralità nel rapporto con il fiume e in generale nel rapporto con il mondo circostante tanto da rendere in qualche modo credibili anche questi avvenimenti fantastici so chi sono stata e chi avrei potuto essere ma ora vivo solo nelle parole scritte non sono sicura della natura della mia esistenza e mi meraviglio di ritrovarmi a scrivere parlo latino naturalmente ma ho mai imparato a scriverlo sembra improbabile senza dubbio è esistita una donna che portava il mio nome la vigna ma potrebbe essere stata così diversa dall'idea che ho di me stessa o dall'idea che il poeta aveva di me che pensare a lei mi confonde per quanto ne so è stato il poeta ad Arminita prima che egli componesse quei versi ero solo una figura indistinta la più indistinta di tutte poco più di un nome in una genealogia fu lui a rendermi reale a ricondurmi a me e così fui in grado di ricordare la mia esistenza vividamente e con ogni sorta di emozioni che ora mentre scrivo mi travolgono impetuose forse perché gli eventi che ricordo diventano reali solo mentre vengono narrati in queste pagine o nei suoi versi ma egli il poeta ignorò la mia esistenza mi trascurò nel suo poema perché venne a sapere chi ero solo quando ormai era prossimo alla morte non ha colpa era troppo tardi perché potesse fare ammenda ripensare completare quei versi rendere perfetto il poema che considerava il perfetto si disperava per questo lo so era adolorato per me forse laddove al di là dei fiumi oscuri qualcuno gli dirà che la vinia ora piange per lui non morirò di questo ne sono certa la mia esistenza è troppo transitoria per portare a qualcosa di così assoluto come la morte la mia mortalità non è abbastanza reale e non vi dubbio che infine svanirò e mi perderò nell'oblio come sarebbe accaduto molto tempo fa se il poeta non mi avesse richiamato la vita forse diventerò un sogno ingannevole che come un pipistrello si aggrappa alle foglie dell'albero alle porte degli inferi o come un gufo che svolazza tra le buie querce di albunea ma non dovrò straparmi alla vita e discendere nelle tenebre come fece lui pover uomo prima con l'immaginazione e poi come il fantasma di se stesso noi tutti dobbiamo sopportare la vita nell'oltretomba mi disse una volta o almeno così interpretare le sue parole ma quello oscuro vagabondare negli inferi in attesa di essere dimenticati o rinascere quella non è vera vita e poco assomiglia alla mia così come mentre io scrivo e voi leggete e ancora meno alla verità delle sue parole quelle parole magnifiche e vivide in cui ho vissuto per secoli eppure la parte di esse che mi riguarda la vita che mi diede nel suo poema è così scialba a eccezione del momento in cui i miei capelli prendono fuoco così incolore se non quando le mie guance di fanciulla arrossiscono come lavori o macchiato di cremisi così convenzionale che non posso più sopportarla se devo continuare a esistere nei secoli almeno una volta devo agire parlare e lì non ha permesso che dicessi alcuna parola e ora devo prendere a prestito le sue mi ha dato una vita lunga ma angusta ho bisogno di spazio ho bisogno d'aria la mia anima si protende verso gli antichi boschi della mia Italia fino alle colline illuminate dal sole inseguendo il volo del cigno e del corvo che dice la verità mia madre era pazza ma io no mio padre era anziano ma io ero giovane come Elena di Sparta provocai una guerra lei la provocò lasciando che gli uomini che la volevano la prendessero io la provocai perché non volevo essere data non volevo essere presa ma scelsi da me il mio uomo e il mio destino l'uomo era noto il destino oscuro incompromesso accettabile eppure a volte credo di essere morta da tanto tempo e di narrare questa storia da qualche recesso dell'aldilà che c'era ignoto un luogo ingannevole in cui crediamo di essere vivi in cui crediamo di invecchiare accompagnati dal ricordo degli eventi della nostra giovinezza come quando le api sciamarono i miei capelli presero fuoco annunciando l'arrivo dei troiani dopo tutto com'è possibile che riusciamo a parlarci l'uno con l'altro ricordo gli stranieri che risalirono il tevere giungendo in un paese di cui non sapevano nulla il loro ambasciatore giunse alla dimora di mio padre spiegò che era un troiano e parlò con grazia e gentilezza in un latino perfetto dunque come poteva essere conosciamo forse ogni lingua può essere vero solo per i defunti che abitano quella regione al di là di tutte le altre com'è possibile che voi capiate me che sono vissuta venticinque o trenta secoli fa conoscete il latino ma poi ci penso che la morte non c'entra nulla non è la morte che ci permette di capirci ma la poesia come avete visto il personaggio non risparmia critiche al proprio autore eppure eppure alla fine l'autore ne esce benino e anche l'opera in fondo e perfino Enea alla fine non è una cattiva persona vi dicevo che questa autrice è stata importante principalmente come autrice di fantascienza non ho detto il nome credo Ursula Kroeber Le Guin è un'autrice è stata adesso non c'è più da un paio d'anni anarchica femminista e si lamentava nei primi tempi dopo aver scritto questo libro che poi tutti gli intervistatori le chiedevano del suo femminismo e invece lei non considerava questo romanzo un'opera femminilista parliamone scelsi da me il mio uomo e il mio destino questa è la lettura che di questo personaggio dall'autrice e chiaramente una lettura moderna l'unica scena dell'Eneide in cui Lavinia fa qualcosa e infatti è l'unica che lei apprezza come abbiamo sentito dire fa qualcosa dico anziché subirla da altri personaggi è quella in cui a un certo punto lei arrossisce le scappa perfino qualche lacrima ma la similitudine famosa è quella in cui lei arrossisce appunto come l'amorio macchiato di cremisi e arrossisce e scappa qualche lacrima di fronte al discorso della madre che vuole darle per marito non vi racconto di preciso la storia comunque la madre vuole darle per marito un certo turno e dice che se invece il re la dà sposa a Enea lei si suiciderà lei la madre minaccia di suicidarsi e Lavinia piange e i commentatori moderni dicono in genere che piange perché è innamorata di Enea e non vuole turno quelli antichi dicono che piange per vergogna perché le dispiace di scatenare una guerra giustamente poi gli storici ci dicono attenzione agli anacronismi è sbagliato dire riferirsi al primato del sentimento che è tipico della nostra cultura delle culture moderne che non c'è in quelle preistoriche a cui appartiene Lavinia e certamente non appartiene all'epoca di Virgilio giusto 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 c'è qualcosa di politico nella scelta di questo padre un re che concedendo la figlia in sposa a Enea uno straniero allarga il proprio sistema di alleanze introducendo nel giro un popolo straniero mentre turno che è già parente di sua moglie ed è per questo che sua moglie spinge per la sua candidatura è già in teoria uno del suo giro e la questione è stata studiata da antropologi che si sono occupati degli aspetti sociali di questo matrimonio e tuttavia vorrei dire ok non non importano i suoi sentimenti ma infatti la ragazza mica interviene nel dialogo i suoi sentimenti non contano nell'affare del matrimonio lei lo accetta solo che le scappa da piangere voi avete mai avuto un momento di crisi perché qualcun altro sta decidendo della vostra vita qualcuno che dovrebbe essere felice quando voi siete felici e che invece ha per voi altri progetti che non contemplano la vostra volontà io sì e vi siete sentiti ricattati io sì ed è per questo che ho scelto questo testo oggi avevo pensato di fermarmi qui invece abbiamo tempo vado avanti per davvero qualche riga ancora se mi aveste conosciuta quando ero bambina avreste pensato forse che il tenue ritratto che il poeta mi fece abbozzandolo abbozzandolo come si fa con una spilla di ottone su una tavoletta di cera fosse più che sufficiente una fanciulla la figlia di un re una vergine da dare in sposa casta mite obbediente pronta a fare il volere di un uomo così come un campo in primavera è pronto per l'orato e poi comincia la storia appunto di quando era bambina e come sentite neanche a se stessa la protagonista risparmia le frecciatine sono critiche che restituiscono sia a lei che agli altri personaggi una tridimensionalità che forse nell'originale non avevano ma che in qualche modo esisteva latente potenziale ok questo è l'incipit di la vigna di Ursula Krauber edizione cavallo di ferro 2011 questa è naturalmente l'edizione italiana quella originale del 2008 se volete altre condivisioni letterarie come al solito vi aspetto sabato prossimo potete iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto se vi è piaciuto quello che avete sentito mettete un pollice in su come fa mio nipotino lasciate un commento qui sotto se avete il mio numero mandatemi un messaggio condividete questo video con altre persone a cui pensate possa interessare o piacere ci vediamo sabato prossimo